Un grande imprenditore attivo nel settore immobiliare del turismo, in primis con l'hotel Palace, soprattutto un grande primo cittadino. Bari piange Simeone di Cagno a Brescia, l'ex sindaco di Bari dopo aver combattuto problemi di salute che ne aveva nominato il fisico ma non lo spirito, è morto a quasi 80 anni, traguardo d'età che avrebbe raggiunto lunedì primo aprile. Un grande legame con Pinuccio Tatarella, la prestigiosa carica di sindaco di Bari dal 1995 al 2004, di Cagno a Brescia è passato la storia per la rivoluzione del borgo antico col piano urban e per aver restituito alla città la spiaggia di pane e pomodoro. Eletto nel 2006 alla Camera dei Deputati con Forza Italia, poi Popolo della Libertà, nel 2009 fu nuovamente il candidato sindaco del centrodestra in una competizione elettorale poi vinta dalla loro sindaco uscente Michele Emiliano. Sei anni fa, nel 2018, la nomina di presidente di Acquedotto Pugliese. Centinaia i messaggi di cordoglio istituzionale non che hanno riempito anche i social. Protagonista di tante importante trasmissioni di telebari, proprio con Simeone di Cagno a Brescia la nostra emittente ha cominciato a trasmettere la rubrica di servizio che mette in contatto diretto il sindaco e i cittadini e proprio così, quindi stringendoci attorno al dolore della famiglia, abbiamo deciso di ricordarlo. Buonasera, ben trovati all'appuntamento settimanale con il sindaco di Bari. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. La solita domanda, com'è andata questa settimana? Una settimana di fuoco, sì, che non finirà oggi ma finirà dopo domani. Ieri fra l'altro sono stato anche a Palermo e arrivare a Palermo è un dramma da Bari, bisognava far girare per Roma, poi Palermo faceva caldissimo. Mentre lei era a Palermo, io ieri ero a Milano. Alla fermata dell'autobus lì all'aeroporto all'inate, ci sono delle macchinette, si introduce un euro, ti danno il biglietto immediato, quindi io temevo di perdere l'autobus perché non avevo il biglietto, invece in dieci secondi ho risolto tutto, cosa che a Bari non avviene. È una proposta che si può lanciare? Noi a Bari abbiamo il sistema balcanico, nel senso che poi chi non ha il biglietto lo compra dall'autista, quindi... Oppure si chiede c'è qualcuno che ha un biglietto da vendermi. C'è addirittura il servizio umano che è meglio ancora della macchina. Grazie.